Raffaele Fitto non partecipa al Totonomi. Il ministro per gli affari regionali convoca i giornalisti dopo l'incontro con i parlamentari, gli amministratori locali ed i consiglieri regionali del centro-destra, ma non annuncia il nome del candidato presidente della regione Puglia. Si limita a ripetere che il PDL ha già un proprio candidato, ma è fondamentale chiudere il ragionamento con Udc e Iosud sulle possibili convergenze politico-programmatiche prima di dire chi sarà il candidato governatore. E alla nostra domanda di spiegare cosa manca ancora all'accordo con i due partiti di centro, Fitto risponde. Stiamo lavorando, come è noto ed evidente, a me non sfugge che qualche mese fa ci sono state le elezioni amministrative e ci sono state anche delle scelte diverse, soprattutto in questa regione, delle quali evidentemente bisogna tenerne conto. Qui stiamo costruendo un'alleanza che ha punti di riferimento certi, che può trovare un programma e dei valori assolutamente condivisi. Noi siamo dell'idea che il PDL, che pure ha un consenso amplissimo in questa regione, non debba anticipare le scelte e partire in forma autonoma, ma vogliamo con l'Udc e con Iosud costruire un percorso condiviso e congiunto.